...è il più importante di Montale, fa riferimento alla dimensione... Hobbes considerava la monarchia come l'unico strumento veramente in grado di evitare il conflitto di tutti contro tutti. A quale conclusione arrivò Kant nella sua critica del giudizio? Giudizio estetico, no? Perché di questo voleva che... Scusi, però io vorrei parlare di Epicuro perché mi piace di più come pensiero. Epicuro è il programma del primo anno. È molto più interessante Epicuro. È il primo anno. Parliamo di Cicerone. In quale anno pronunciò le Catilinarie? Le Catilinarie, sì. Cicerone. No, no, che la so, la so. Ma perché mi stanno affattando queste domande? No, scusate, l'ho studiato per sei mesi, fatemi andare avanti, fatemi un'altra domanda, almeno, cioè... Perché l'epigramma di Catullo odi e t'amo è così importante? Forse va bene così, eh. No.